Ciao ragazzi, io mi chiamo Leo Polo e nel video di oggi purtroppo vi porto una notizia qui un po' bruttina Cioè, vi fa proprio arrabbiare una cosa del genere E ragazzi, allora, questo è successo in una delle ultime cash cup Una cash cup solo E sì, c'è stato un hacker, ok? In questa partita qua che vi porto Allora, questa partita non c'è più su Fortnite, questo hacker è stato banato Lui aveva preso la top 2 del torneo, ok? La top 2 Aveva, avrebbe preso dei soldi Però, ovviamente, è stato banato, allora sì, non prenderà dei soldi La top è stata sistemata, diciamo Bene, io ho trovato questa partita su YouTube, ok? In questo canale qua, allora, se volete guardare tutta la partita, venite anche qui Io vi farò vedere solo alcuni momenti principali Perché sì, veramente è molto triste una situazione del genere Molti che cercano, che si allenano per cercare di vincere i tornei Per giocare bene i tornei E arriva uno di questo qua, cioè uno come questo qua Che fa 63 kill, ragazzi 63 kill sarebbe il record di kill in solo Ovviamente, cioè, è palese che non è stato fatto di modo legale Perché, sì, infatti questo qua aveva lane bot Però, sì, ragazzi, è veramente triste la situazione Mi dispiace per tutti quelli che hanno partecipato E magari, sì, non sono riusciti a prendere dei soldi per colpa di questo qua E sì, ragazzi, vi faccio vedere alcuni momenti perché è davvero un disastro, ok? E ragazzi, se volete supportarmi potete usare il code LEOPOLO1 nello shop E se volete continuare a migliorare su Fortnite e sempre essere aggiornati su tutto quello che succede Iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi video Allora, non ha usato una strategia molto avanzata E semplicemente alla lane bot non ha nemmeno buildato tanto, ragazzi È veramente una cosa triste Cioè, si vede che droppa lontano da tutto E sì, ragazzi, la prima cosa che cerca è ovviamente qualcosa per sparare da lontano E vedrete che con l'arco, cioè dal momento che prende un arco La partita lì è un po' finita, ok? Ecco, il primo momento qui, ragazzi, vedete? 3 red, ci ho fatto di fila così Non c'è molto da fare Cioè, uno... non c'è... non ha da fare, ragazzi È proprio un disastro, ok? Ora ha preso l'arco e... Sì, questo arco non fa ancora... Non fa ancora 200, però... Vedete? Due colpi Ha fatto due colpi, ragazzi E ecco, possiamo vedere anche come la macchina si muove molto più velocemente È una cosa proprio... un altro hack, probabilmente Racco anche di velocità della macchina E sì, inoltre a lane bot, inoltre a tutto quanto Ecco, vedete, ragazzi Bene, ha già 4 kill Ha sparato proprio a caso E sì, quello che fa arrabbiare, ragazzi, è che tipo... Cioè, Epic Games magari non potrebbe bannarlo Proprio qui Cioè, ha visto che ha fatto 4 headshot così Totalmente a caso con l'arco A distanze assurde proprio Tipo... Cioè, mi sembra un po' palese Guardate, un altro kill Ha già 5 kill e... Sì, ha continuato fino alla fine del game, ragazzi Vedrete poi anche ha usato altre armi E sì Non c'è molto da fare Ora con questo arco qua, ragazzi Basta solo prendere i colpi di arco Continuare a sparare e prendere le kill E qui siamo già parlando di una cash cup Con punti già alti, ok? Questa è una delle partite che... Cioè, era palese che aveva usato l'einbot, ok? Ne ha usato anche in altre Infatti, in tante altre Però sì, cioè, questa qua è proprio stata il massimo, ok? 63 kill Sì, era palese, ok? Probabilmente ha fatto solo per farsi vedere Ecco, altri 2 kill qui A 9 kill siamo in 68 68, 94 punti Cioè, sono già quelli che sono forti, ok? Sono già quelli che sono rimasti fino alla fine Perché 94 punti Sono già quasi quelli per vincere Tipo... Sì, in questo momento del torneo Era l'ultima partita che stava facendo Ma comunque uno con 94 punti Se fa una bella partita Potrebbe anche prendere una bella top Per prendere solid Quello che è successo anche con lui, ragazzi Ecco, c'era un muro davanti, ragazzi Un muro davanti E ha semplicemente passato il muro Cioè, è passato per di sopra del muro E... Sì, non so come farlo per sistemare Però non mi sembrava molto difficile Alla fine, tipo... Sì, cioè, se fa solo redshot Cavolo, non basta tipo Controllare lì, cavolo Questo qua fa 5 redshot di fila Così, con l'arco Con la mitraletta Da distanze assurde Cioè, è ovvio che c'è qualcosa Che non torna qui, ragazzi E il problema, ragazzi Non è solo questo qua Cioè, vedete Anche se il tipo build Qui, per esempio Cioè, non serve Guarda da dove ha sparato Ha mirato? No, ragazzi Rivedete questa parte Lui ha mirato dall'altra parte Cioè, l'inbot Si è attivato da solo Ha mirato dall'altra parte Che c'era un fight Là, in alto destra E ha colpito il tipo Qui in basso sinistra Cioè, è proprio assurdo, ok? E il problema magari Non è proprio questo qua Perché si è fatto vedere Ha fatto 63 kill Era un po' Palese Che verrebbe banato, ok? Cioè, non c'era molto da dire Riguardo a questo qua Ha fatto pure una top Il problema, ragazzi Sarebbe proprio Che tipo Magari uno Usa questo hack Però non lo usa Però non lo usa di forma Molto esplicita Nel senso che Magari uno usa Questo hack Però lo usa solo Per certi momenti Tipo uno che magari È già un po' fortino Lo usa solo per approfittare E fare un po' di kill In più All'end game magari E tipo, sì Cioè, se Epic Games Non è riuscita A banarlo Dentro il game Perché infatti Tipo Ha fatto tutti i game E non è stato banato Allora, sì Vediamo che c'è qualcosa Qui che non torna Perché, sì Ora è banato Ora non lo troverete più Su Fortnite Nemmeno nella classifica O l'ho cercato Non si trova più Perché proprio Si ha fatto vedere Nella classifica E, sì Ecco Un'altra persona qui uccisa Ha sparato totalmente a caso Sì Proprio assurdo Mi dispiace tantissimo Per quelli che magari Stavano cercando di Fare un bel game Ma Inoltre a tutto Anche il hack Della velocità Ok, la macchina va Molto più veloce È proprio Una cosa assurda Ragazzi E va così Cioè Al momento Ha 24 kill E È semplicemente così Fa tante kill in più Ok Ora passo un po' più avanti Se volete vedere Tutto il video Ragazzi Vi ricordo L'ho preso qui Da questo canale Lascio il link Anche in descrizione E allora Anche verso qui Alla fine Ragazzi Vedete che Continua a fare questa roba Passare per gli stessi posti A prendere tutte le kill Qui ha già 45 Avvicinandosi Sì Verso la fine 53 kill E continua così Ragazzi Guardate che save fa La terza save fa E siamo in 11 Una cash cup Dove i maggiori punti Sono per qualificazione Ok Sappiamo che ora I maggiori punti Delle cash cup Sono per qualificazione Allora sì Una lob così buona Con tanti punti Sarebbe sicuramente Un endgame Bellissimo Magari anche Con lo storm surge Magari E si è triste Vedere una situazione Del genere Boh Mi ricordavo Quel tempo Dove fornite Banava la gente Così Il martello Del ban Proprio in mezzo Ai game Era proprio Bellissimo Quella roba Quando vedevi Uno che era Stato banato Proprio in mezzo Al game Era una roba Proprio assurda Ecco Qui siamo già Alla fine del game Ragazzi 4 persone A 60 kill E si Cioè Inizierà a sparare A caso Non so come vede lui Probabilmente vede anche Dove sono gli avversari E si guardate Non c'è molto da fare Beh Ma e se Uno build Un muro davanti Raga Non c'è Non c'è Non c'è da fare Semplicemente Si colpi attraversano tutto Vanno per di sopra Di sotto Eppure balla Alla fine Vero Si la situazione Si ragazzi È triste Ok C'è anche un altro caso Ecco Come potete vedere C'è anche un altro video qua Che si è successo Un'altra volta Questo hack Settimane prima E si ragazzi Questo video Solo per informarvi Di questa situazione Un po' triste Ok Di hack su Fortnite Nei tornei E questo è davvero Un problema E si ragazzi Grazie mille per essere arrivati Fino a qui Se vi è piaciuto il video Iscrivetevi al canale E al prossimo video Ciao